Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi sulle montagne di bussi sul Tirino al confine con le gole di Popoli. Stando alle primissime informazioni, le fiamme stanno interessando un'area di macchia mediterranea non distante da una pineta che fortunatamente è stata messa in salvo. Considerata la zona impervia e il vento forte, sono arrivati sul posto due Canadair che si stanno occupando delle operazioni di spegnimento. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco di Popoli ma anche i carabinieri forestali, unitamente volontari della protezione civile di Pratola a Peligna, sempre sul pezzo. Non si conoscono al momento le cause che hanno originato il rogo, toccherà i militari accertare eventuali responsabilità. Tanto è bastato per far scattare di nuovo la psicosi incendi tenuto conto di quello che è avvenuto la scorsa estate sul Monte Morrone, ma quella per fortuna è tutt'altra storia. E' a affrontare. Per favore. Il vagena любовene. S میں rip �lando. Parcia,